Ciao a tutti cari amici, buonasera e ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con la canalizzazione del pensiero. Utilizzerò questa serie di tarocchi di Manara, che vedo che mi sono piaciuti moltissimo. Ho già preparato questi due mazzetti, allora abbiamo la variante 1 con il simbolino rosa fucsia, la variante 2 con il simbolino rosa. Io vi ricordo come al solito finché scegliete di farlo a distinto, quindi cercate di ricordarvi sempre che sono interattivi, sono stese generali, costituite da tante energie, voi siete tantissimi per fortuna, avete tante situazioni diverse. Quindi questi video non possono in alcun modo sostituire un consulto privato, ma sono appunto generali, quindi possono risuonare completamente in parte o può esserci semplicemente magari una frase, una parola che in qualche modo vi deve risvegliare e deve farvi capire, guarire o quant'altro. Allora, vi ricordo che questi video sono validi dal momento in cui vengono visti e che vanno bene per tutti i tipi di coppie, quindi donne che guardano per uomini, uomini che guardano per donne e coppie arcobaleno. Allora, io parto subito con la variante numero 1, questa qui la metto in disparte, metto qua il simbolino e andiamo a stendere le nostre carte. Naturalmente, vi ricordo che se volete contattarmi per un consulto privato lo potete fare via WhatsApp al 371-636-0228 oppure via mail a tarot-tai-tarot-gmail.com Allora, cosa abbiamo qui per la variante 1? Beh, allora, c'è una persona qui che è molto molto attratta da voi, qui abbiamo il diavolo, quindi un uomo che veramente vi pensa in modo, anche eroticamente parlando, molto importante, molto forte. C'è un'attrazione magnetica, un'attrazione che però per alcuni di voi potrebbe trattarsi anche di un legame un po' morboso. Il diavolo mi rappresenta anche le catene, mi rappresenta anche l'ego, quindi una persona che magari fa fatica a fare dei passi perché è bloccata dall'orgoglio, ma contestualmente molto attratta. Quindi si ristauro è una sorta di conflitto interiore all'interno di questa persona perché da una parte c'è l'istinto a venire verso di voi, che uscite come regine di coppe, quindi donne amate dalla persona per cui chiedete. La donna dolce, la donna affettuosa, la donna che usa le emozioni, che le sa governare, governare inteso che le vive completamente, talvolta non le governa affatto, nel senso che si fa prendere proprio dall'euforia di quello che sente. La regina di coppe è una donna che sa che cosa è l'amore, sa anche talvolta manipolare le emozioni. Siete delle donne abbastanza riservate, per alcune molto timide, questa persona pensa a questo di voi, quindi vi vede come delle donne molto aggraziate. E anche da proteggere sotto un certo punto di vista, perché probabilmente o siete da sole o vi vede estremamente anche fragili all'interno di un mondo che in realtà non è per voi. Che altro abbiamo? Qui abbiamo la torre. La torre mi parla di qualcosa che si è rotto, che crolla. Allora, qui il diavolo con la torre spesse volte lo ha riscontrato come un litigio molto forte, molto pesante. Quindi qui dipende un po' dalla vostra situazione. Se avete litigato, la persona sta pensando a questo litigio, sta rimuginando sopra questa situazione con questo diavolo, si è attaccato proprio. Qui c'è gelosia anche con questo quattro di denari. Una persona attaccata o pensa di voi che siate estremamente gelose di quest'uomo o di questa donna. Non si riesce a lasciare andare il rapporto, non si riesce a lasciare andare voi proprio come donna. E' una persona che in questo momento risulta essere abbastanza confusa, ma soprattutto è una persona che ha bisogno di attenzione, ha bisogno di essere rincuorato un pochettino. Che dire? Allora, se questa persona è impegnata, e qui potrebbe essere con il diavolo e il quattro di denari, c'è una sorta di desiderio focoso nei vostri confronti, ma contestualmente una catena che lo lega alla relazione ufficiale. Una catena che questa persona vorrebbe spezzare con questa torre, vorrebbe ritornare libero, vorrebbe poter effettivamente venire da voi, che siete la donna che ama, però non riesce a lasciare andare la famiglia. Questo perché probabilmente all'interno della famiglia c'è, a parte gli affetti, ci sono delle situazioni in cui questa persona si è creata nel tempo, la casa, proprietà, qualsiasi cosa sia, che non riesce a mollare. Cioè, quello che lui si è costruito con le fatiche di una vita, e questa persona, sebbene o sia già libera, o voglia diventarlo, fa fatica a lasciare andare la situazione. Quindi pensa, diciamo, un po' a questo, questi sono i pensieri che hai in testa. Andiamo a vedere, col vorrei dirti che, cosa emerge ulteriormente dalla stesa, quindi per la variante 1. Qua dice, mi dispiace se ti ho ferito, mi sto innamorando di te, ti penso continuamente. L'avevamo visto con questo diavolo, altro che pensare. Qua che abbiamo, ti desidero, sei importante per me. E qua abbiamo, sono geloso, cioè ragazzi, avete visto le carte come risuonano? Allora, mi dispiace se ti ho ferito, quindi qui per alcuni di voi, ripeto, c'è la variante in cui lui è impegnato, e quindi per alcuni di voi potrebbe esserci stata la rottura dovuta al fatto che questa persona non riesce a lasciare andare quello che ha costruito nel tempo. Quindi gli dispiace di quello che è successo tra di voi. Però è una persona che si sta innamorando, è innamorata di voi, ma l'avevamo già visto con la regina di coppe. Ti penso continuamente, ti desidero e sei importante per me. Quindi qua abbiamo un pensiero ossessivo nei vostri confronti, perché vi desidera veramente molto, molto, molto. E dice anche sono geloso. Quindi qui se c'è stato un distacco, questa persona ha paura di perdervi, ha paura che voi abbiate trovato un'altra persona con cui passare del tempo e che in qualche modo vi soddisfa. Andiamo a prendere questo messaggio motivazionale per voi. Allora, prendiamo due. Quindi cosa voi dovete guarire, cosa voi dovete ripetermi per riequilibrare le vostre energie e far sì che questa situazione si sviluppi in modo positivo. Allora, sono già perfetto così. Sono già perfetto così, qui e ora sono abbastanza, sono tutt'uno con la vita. Quindi qua le carte vi dicono che se state lavorando bene, siete quello che siete, non avete nessun problema, siete all'altezza di fare qualsiasi cosa volete, qualsiasi cosa desiderate. Seguo la mia saggezza interiore, sono in pace con il mio essere, mi amo e confido di prendere decisioni giuste. Quindi qui le carte vi stanno consigliando, se voi per esempio fate fatica a prendere delle decisioni per quanto riguarda il vostro benessere, di iniziare a farlo. Quindi di non preoccuparsi degli altri, di quello che dicono le persone, di cosa dovete o non dovete fare. Secondo gli altri, prendete le decisioni giuste per voi. Vediamo un consiglio qui. Troppe, decisamente troppe, una carta sola. Va bene, prendiamo due. Allora, fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Questa è la prima. Vale la pena di aspettare il sincronismo divino e all'opera nella tua vita amorosa. Allora, che cosa vi dicono qui? Beh, diciamo che in entrambi i casi qua vi dicono che probabilmente è il caso di aspettare. Magari voi volete tutto e subito questa persona è meglio che cuocia nel suo prodo per un bel po' di tempo. Finché a un certo punto scoppierà e verrà assolutamente da voi. Quindi le carte vi invitano a rallentare, a stare ferme, a non pensarci troppo, a non prendere azioni, a non fare azioni. Qua, fai uno sforzo per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Allora, in questa situazione, che queste due carte sembrano un tantino in contrasto, direi che qua lo sforzo riguarda più che altro voi stesse. Quindi, fai uno sforzo verso di te, quindi se voi per esempio avete la sensazione che questa persona sia quella giusta, però non vi sta dando quello che volete, non è presente o quant'altro, c'è un allontanamento. Voi vorreste magari invece qualcosa di più importante. Allora, fai uno sforzo nel compiere i passi per te stessa, quindi per non forzare le cose, quindi trattieni oppure compi, fai effettivamente un'azione se è il caso di farla. Allora, andiamo a vedere i sinizodi e cali che non ho tirato fuori, scusate, vediamo se riesco a prenderli. Allora, i sinizodi e cali che abbiamo lo scorpione, la bilancia, cancro, bilancia, gemelli e la vergine. Quindi i segni sono scorpione, cancro, gemelli, bilancia e il segno di terra della vergine. Va bene, variante 1, io vi ringrazio per aver seguito il video, vi invito a mettere un like, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto mi raccomando, perché vedo che ci sono tantissimi che guardano il video, ma non si iscrivono, fatelo, perché potete poi partecipare a un insieme di altre cose che ci sono all'interno del canale, come sondaggio e contatto. Io vi ringrazio moltissimo per aver seguito, vi mando un bacione grossissimo, vi aspetto domani con la prossima canalizzazione del pensiero e nulla, io vi auguro una buona notte e vi ricordo sempre che se mi volete contattare lo potete fare via mail o via whatsapp e trovate tutto sotto nella descrizione del video. Un bacione grande e buonanotte a tutti. Allora, passiamo adesso alla variante numero 2. Variante numero 2. Per coloro che hanno scelto il simbolino rosa, andiamo a metterlo qui e stendiamo le nostre carte. Vediamo che cosa ci dicono. Allora, qui abbiamo una persona che si sente come risvegliata nei vostri confronti, cioè l'avete proprio colpita. Vi vede come delle donne che hanno tanto, abbondanti, potreste anche essere impegnate per alcune di voi. Siete delle donne concrete, pratiche, delle donne che sanno quello che vogliono, che siete abbondanti probabilmente anche a livello fisico, quindi questa persona vi pensa anche a livello estetico in modo molto importante, ma soprattutto qua vi vede estremamente concrete, quindi delle donne che se vogliono qualcosa, in qualche modo la ottengono. Potreste anche avere una carriera, essere delle donne comunque che avete impostato la vostra vita sul lavoro, diciamo, o sull'aspetto materiale, della vostra crescita materiale, e questa persona pensa questo di voi. Quindi qui c'è anche un'opportunità concreta che questo uomo vede nei vostri confronti di realizzazione, di realizzazione di una costruzione di una famiglia, di opportunità lavorative, di qualsiasi cosa questa persona ritenga importante nella sua vita, ma soprattutto qualsiasi cosa voi state offrendo a questa persona. Al centro della stesa abbiamo il giudizio, quindi è un uomo che, primo fra tutti, vorrebbe mettersi in contatto con voi, vorrebbe probabilmente chiamarvi, annunciare qualcosa, ma io qua principalmente con questo giudizio ci vedo un risveglio. Un risveglio perché qui abbiamo un sei di coppe, c'è qualcosa che mi rimanda al passato, una persona con cui avete avuto una relazione in passato, oppure voi gli avete risvegliato dei ricordi del passato di questa persona. E qui vedo che c'è proprio l'inizio di una passione, l'inizio del desiderio. Quindi se avete già avuto una relazione in passato, qua si è risvegliato del sentimento, ma soprattutto si sono risvegliate delle passioni. Vi vede un po' come la donna che per alcuni di voi gli ha spezzato anche un po' il cuore. E qua c'è una donna che gli ha mangiato il cuore, quindi probabilmente questa persona si sente fulgorato, attratto da voi, però è anche contestualmente conscio del fatto che voi, in un certo qual modo, potreste fargli male nuovamente. Quindi questo è un po' quello che pensa verso di voi. Ci sono delle emozioni appunto che riguardano il passato. Allora, andiamo a vedere con gli oracoli del vorrei dirci che per la seconda variante che cosa emerge. Allora, voglio sposarti. Eh mamma mia, ok. Variante 2. Ti prego perdonami. Qui è successo qualcosa in passato, dicevo. Allora, vediamo un po' che qua sono uscite più carte. Mi hai deluso, mi fai impazzire, sono io quello giusto per te. E qui abbiamo, lo so che ho rovinato tutto. Eh, infatti qui qualcosa è successo nel passato, nel passato. Allora, voglio sposarti. Quindi qua abbiamo capito che una persona che vuole concretizzare qualcosa, scusate c'è una mosca, voglio concretizzare qualcosa, ma l'avevamo visto con questa regina di denari, con questo tasso di denari. Eh, ti prego perdonami, e qua mi hai deluso. Allora, è successo qualcosa in passato? È una persona che sa comunque, forse ha fatto qualcosa a lui che non va a seguito di una delusione, oppure è stato deluso dal vostro atteggiamento nei confronti della situazione in cui questa persona ha sbagliato. Fatto sta che comunque questa persona è attratta da voi. Infatti dice, mi fa impazzire. Però qui c'è qualcosa che riguarda il passato. Poi mi farete sapere nei commenti, perché sembra una situazione ormai un po' lontana. Oppure qua vi frequentate, vi vedete, però sotto altri aspetti, non nell'aspetto sentimentale. Però qui c'è un risveglio da parte di questa persona. Dice, sono io quello giusto per te. Quindi è un uomo che pensa che voi siate felici con lui, o possiate esserlo. Quindi ritiene che lui sia in grado di darvi quello di cui avete bisogno. Vediamo dei messaggi motivazionali. Allora, sono disposta a imparare cose nuove. Amo imparare, sono disposta ad abbandonare vecchi concetti se non funzionano più per me. Crescere e cambiare è entusiasmante. Poi abbiamo, seguo la mia saggezza interiore. Sono in pace con il mio essere, mi amo e confido di prendere decisioni giuste. Quindi queste sono delle carte motivazionali per voi, quindi sono delle frasi che vi dovete ripetere o a cui dovete riflettere per magari guarire delle cose. Magari faticate a mettere in pratica queste situazioni che le carte vi hanno in questo momento messo in luce. Vediamo il consiglio. Dio e luna di miele godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Allora, qui, se siete effettivamente state progettando un viaggio, una vacanza, le carte vi dicono di non preoccuparvi di tutto il resto e di godervi quello che c'è. Potreste andare in vacanza con questa persona oppure andare effettivamente distante da questa persona con altre persone e quindi godetevi quello che avete in questo momento. Quindi questo è il messaggio sostanzialmente. Non fossilizzatevi su questa persona che magari al momento non è nella vostra vita ma vivete quello che è e quando sarà il momento arriverà. Vediamo i segni zodiacali per la variante 2 l'ariete il segno del toro il segno del leone lo scorpione ultimo segno il segno dei pesci quindi ariete, toro, leone, scorpione e pesci. Va bene, variante 2 direi che le carte per questa sera ci hanno detto abbastanza io vi invito a mettere un like iscrivetevi attivate la campanellina e vi ricordo che se mi volete contattare per un consulto privato lo potete fare via mail o via whatsapp trovate tutto sotto in basso nella descrizione del video. Io vi mando un abbraccione grande vi auguro una buona notte e ci vediamo domani con una nuova canalizzazione. Buonanotte a tutti!